Ciao bambini, regola numero uno, passate il vostro tono di voce in modo che la mia, ovvero protagonista di questo video, si senta. Hai il 35% di batteria. Mi piace, perfetto. Tu parla. Mi senti brava? No. Ciao bambini, questo è Electricapoo. Siamo qui con la gang, come non succedeva da tanto tempo, perché avevamo litigato, ovviamente. Non è vero. Non perché c'era stata una pandemia in corso mondiale che ci ha costretto a stare a distanza. Oggi faremo un video, una challenge di disegno. Ti ho visto andare molto nei USA. Chi lo disegna meglio? Teo. Quello sicuramente. Ogni concorrente riceverà una parola a caso. Un concorrente farà da giudice. Chi riuscirà a far capire la parola, prende un punto. Iniziamo. Questa è la parola di Giulio. L'avrei voluta io quella. Non si vede. Giulio. Ok. Questa è la parola di Sabrina. Ok. E questa è la parola mia. Ma adesso è la più facile. Oh, è andata così. Va bene, iniziamo. Primer a partire da ora. Giulio sta facendo Harry Potter. No. Ha diritto una Sabrina multicolor. Questo fa Pokémon. No, non mi dire così. Non vuol dire che perdo. Perdo una gara di disegno sul mio canale. Ah, è Goku? Ah. Ah, chi ha fatto il rumore? 5, 4, 3, 2, 1. Pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi. I penarelli. Allora, voi però mi volete molto, Andre. Questo è il mio. Va bene. Cos'è? Potrebbe essere una pantera. Un punto per me. Un punto per me. Questo è il mio. Perché ci sono i dadi? Perché potrebbe essere un Rebus. Brava. Per far capire quella parola lì. Ci sono dadi, carta e tu stai indicando un volto. Cos'hanno in comune? Hai un secondo. Dai. Uno. Ho proprio evidenziato. Guance. Ho evidenziato. Puoi passare se vuoi. Cosa c'è tra le guance? Appunto, non lo so. Non ho capito. Trucco, è truccata, è trucchi di magia con le carte e con i dadi. Non gioco più. No, fai schifo. No, ma in che senso? Guarda che anche tu dove potrai giudicare i vendicati. Come fai? Io se il mio non ci arrivi non ti piace. Mi era davvero una parola difficile. È facilissimo. Questo è quello di Giulio. Campeggio? Sì. Non mi fai un recappo dei punti? Uno, zero, uno. Non gioco più. Fabri, non si capisce. Sposto, ma... E' deseducativa questa cosa. Allora, fai un foglio con i punti totali, per favore, perché adesso... Vabbè, a me non serve quel foglio. Non la segnala lei. Non lo scrivo il suo nome, che dici? Ma che cacchio è? Io stavo pensando a zardo, a gioco a zardo. Valeria Marini? Vai, Andre e Giulio, scambiatevi. Sì, questo è tu, Andre. Tu c'hai questa. Ma fai sul serio? Eh sì. Vabbè, ciao. La persona che impari a... A indominare... Beh, mi stucco. Ehi no, ma come faccio? Sì, basta. Sabrina, tu hai questa. Tu hai quella, Sabri. Non capisco perché, qual è il problema, Sabri. Io ho questa. Pronti? Cosa facciamo? Un minuto che ci guardiamo in faccia, Sabri? Pronti? Un minuto di silenzio per il lutto. Via! Chissà se Sabri ha riuscire a prendere un punto con questa. Io posso guardare il mio telefono nel mentre? No. Devo guardar voi? Non lo so. Ah, posso guardarvi? Sì. Sì. Ho come l'impressione che non indominerò quello di Sabri. Sovrino, dai. Mi pare che non era difficile. Ti manca la fantasia? Ma si possono usare anche i testi? No. No, no, no. No. È barario, devi disegnare. Io forse quello di Sabri l'ho capito. Ma cos'è un sedere che spruzza la cacca? Belle parole. Che belle parole avete generato. 3, 2, 1, 0. Giù le penne. Ma veramente? Ci sono passato un minuto. Chi inizia? Io. Questo è quello di Sabri. Allora, può essere depressione, tristezza, faccina. No, era Scandinavia. No, Scandinavo. Era Scandinavo. Tipo Scandinavo. No, però quella è da rollare. No, no, sono contento. No, perché? Ma come fai a indovinare Scandinavo? Perché l'ha genitato male Sabri? No. Io non so neanche dove era Scandinavo. L'ho fatto io. Infatti mi ha detto che bandiera ha Scandinavia. Non so che forma ha nel mondo. Giulio, tranquillo. Prego, Andre. No, Giulio, questo è meglio. Allora, può essere o vascolare, vena, muscolo. C'entra qualcosa, c'entra qualcosa. Tendine. Però quella cosa c'è anche di fianco o meno. Puoi dare un suggerimento? Cosa c'entra? Allora, l'aggettivo è muscolare. Ti aiuto io. Ale, ale, urea, ale, ale, urea. No, vibra. Fibra. Boom, 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 boom. Che l'hai fatto? Perché i cereali... Non gioco più! Perché i cereali sono fibre e le fibre muscolari. Visto? Allora, il mio è questo. Allora. Il mio è questo qui sotto. Il tuo è... Segaiolo. Farniame. Ehm... Boscaiolo. Non è quello. Cosa sta facendo? Taglialegna. Non fa, dai per là. Anch'io potevo dire abitante della Scandinavia. Scusa, però puoi fare un recap dei punti? Ah, ah, ah. Solfie 1. Sabri 0. Ah, beh, è vero. Andre 1, Peo 2. Mi fa schifo questo gioco. Meglio o peggio di disegnare la creatura? Fa ancora da schifo. Ti disegnare la creatura. Sabrina, adesso sei tu che giudichi. Sei tu, vai, giudichi. È la parola di Andre. Oh, finalmente. Visto? Visto, visto. Facile. Perché a Giulio le ha girate tre? Questa... No, cosa vuoi dire che a Giulio le ha girate tre? Perché me la hai lasciato scantina. La stai sbagliata. La prossima, la prossima è la mia, vai. Questa è di Giulio. No, dai, rifalla. Rifaccio? Non voglio... Non ci provare! Questa è di Giulio. Marco 2. Ripalla. Ripalla. No, dai, raga. Ma io non so neanche che cos'è. È il gioco. Ti do la mia se io mi prendo la tua. Ok, no, lo so, lo so. Eh, vai. Te la scambiamo. Questa è la mia. No. Questa è la tua. No, io vedo quella. Pronti? Partenza, via! Allora, non mi ricordo che cosa devo fare. No! C'è una mosca! C'è una palettina di sabri. Paribale tu le labi, paribale tu le labi, paribale tu le labi, paribale tu le labi. Ciao, grazie per il punto. Easy. Ah, oh! Un tanti secondi che ti fa. Oh, ma mi stanno aggredendo, vabbè, non vale. Cosa sta facendo? Piero, mi sa che tu non l'hai capito. Sì, sì, è quello che usavano per... Sì, sì. Non ci arriverà mai. Non ci arriverà mai. Stop! Ok. Questa volta inizio io perché mi sento che stavolta al punto non lo prendo. Questo è il mio disegno. Allora, io vedo Peter Pan, l'isola che non c'è. Dov'è l'isola? Non c'è. No, vabbè. Non c'è, è l'isola che non c'è. Ma è l'isola che non c'è. Cosa sta facendo? E ti telefono a casa, gli stanno ad un anello, vuole sposarsi, amore. Tu l'hai visto il film Peter Pan di Robin Williams? No. Ciao Peo, zero. Zero. Peter Pan per dare un bacio a Wendy si scambiavano un oggetto che si chiamava... Piace a mia nonna. Eh, d'Italia. Eh, no, non vale. Non vale! No, zero. Zero, vabbè, no. Poi ci sarebbe mai. Però sono soddisfatto che ci arriva. Cioè, tu devi farmi d'Italia? Allora, Sandri, è difficile la mia. Valla vedere l'afrima. Allora, balla di fieno, mietitrice. No. Erba, porcocco. Guarda le frecce. Guarda le frecce. Stai mietendo un campo. No, pensa molto più semplice. Erba. No. Per tonico. È impossibile indovinare la parola. Erbusto. Però con erba ce l'è andata vicino. Erbaccio. Erba fa parte di che cosa? Piante. Babbè. Fattoria. Dove sta l'erba? Dove sta l'erba? Nel prato. Dove cresce l'erba? E la terra. Terrico. Terra grossa? Non dici... Terrona. Terra grossa? Terroni. Vabbè, dai, arrivaci. È un misto fa terra e fieno. Cacca. Terreno! Niente. Andre. Mi sa che l'unico punto qua lo prende Andre. Vabbè, questo è il disegno. Sorella. Cosa vedi? Un cavallo. Eh, non posso. È un cavallo, sorella. Sorrata. Siamo a punti. Uno Solfi, zero Sabri, due Andre e due Peo. Levati. Levati. Levati, stai calmo. Dalle palle. Tu hai persa. Sabrina, puoi far vedere, puoi girarti, far vedere i gentili telespettatori? Che bellissima giacca barra felpa corti oggi. Quello è giugnato da Peo e dalla linea di arena. Lino Mizu 2. O Mizuka. Sentiti libera di mettermi culo in faccia. Andre. Oh, c'è. Andre, questa. Aspetta. Giulio, facile. Giulio, questa qua. È facile. Io ho questa. Ma che palle, la mia è sempre la più difficile. Ma io non mi ricordo la mia. No. Ti giuro no, era... Non mi ricordo qua. Però io sono il mio. Sabri. Ti ricordo qua che mi chiesto a te. Non mi ricordo qua. Rifacciamo. Rifacciamo. No, è solo... Io non mi ricordo la mia. Andre, tu hai questa. Qua si sta smontando, aspettando. Questa qua. Ma come fai a farla? Lo fai facile. Giulio, tu hai questa? Ma è facilissimo. Ma è facilissimo. Ma come è facilissimo? Ma è la mia? Via. Mancano 55 secondi. Non iniziamo. Mancano 50 secondi. Le prendi? Mi becco un punto finalmente. Comunque. Peo. Un punto che non ti basta per vincere, penso. Ops, tempo finito. Posso iniziare io che per una volta prendo un punto? Bersaglio? No. Cos'è? Ruota? No. Un bersaglio? Roulette? Sì. Posso mettermi un punto io? Indicazioni poco chiare, ora sono sordo. Vai. Vai Giulio, me l'hai fatto vedere bene, sì. Bravo Giulio, mi piace, c'è Goku. Che è Goku? Campana? Campanella? Un po' più brutto. Quella cattiva. Campanaccia. Sì! Non si dice campanaccia, maschio. Maschile. Campanaccio? Bravo. Perché c'è Goku? E' suonata Adesso dimmi come può arrivare alla mina Anch'io l'ho pensata così però Sì ho capito ma non è mai che ci arriverà No, no Ci arriva, ci arriva Stai indicando i capelli, il testone Esatto, chi è che ha un testone? Pica Oltre a Pica è una persona? Ti giuro che è leggerne Quindi sinonimo? Lo fai anche con la verdura? Cervellone Lo fai anche con la verdura, cervellone Il contrario di lungo? Corto Non è che vuoi Zero Era colto Corto Dai ti ho fatto il testone Non sabri Cosa stai facendo? Stai cercando di entrare Non ci stai Matematicamente impossibile Io e Sabrina occupiamo lo stesso spazio Che voi occupate per uno solo No, che io e lui occupiamo Abbiamo due punti soliti Uno di Sabrina Due di Andre Due di Perla Quindi i vincitori sono Tutti Tranne Sabrina Abbraccio dei vincitori Ma, Sabrina, ricordati una cosa Sabrina, ricordati una roba Se coi fiori te è andata male Prova quei ciccioli di maiale Al prossimo video Va bene, signori Questo è quando Adesso, come al solito Che appariranno dei video In sovraimpressione Cliccate se avete ancora bisogno Di una dose Di vostro piccolo ciobietto di quartiere Mi raccomando la cosa più importante è la campanella La Cristo di campanella No questa Questa campanella Campanaccia 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 Campanio e vino